Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del canale DoubleFifo. Oggi siamo qui con il secondo confronto del canale. Dopo Gomez contro Torres, siamo qui a presentarvi Quaresma contro Nani, i due esternivestri portoghesi che giocano proprio nel medesimo campionato. Parlando del primo, Riccardo Quaresma, che si presenta sulla carta con un 80 di overall, con 84 di velocità, 85 di dribbling, 74 di tiro, 77 di passaggio e 64 di fisico. Una velocità 84 che si presenta con un 85 di accelerazione e un 83 di velocità scatto, poi abbiamo un dribbling 85 che si presenta con agilità 82, con trovopallo 86 e dribbling pur 87, poi abbiamo un tiro 74 con 82 di potenza tiro, 84 di tiro alla distanza e 80 di tiro al volo. La finalizzazione purtroppo, questo comunque ne parleremo più avanti, è solo 66. Abbiamo un 77 di passaggi con 78 di visione, 81 di cross e soprattutto un 92 di effetto, con 75 di passaggi corti e 71 di passaggi lunghi. Per la caratteristica fisica, 64 abbiamo un 65 di forza e un 57 di aggressività. Questo giocatore ha un work rates medio-basso, di cui parleremo durante le clip, 4 stelle pienedebole, ma soprattutto per chi vuole usare le skill, questo giocatore ha 5 stelle. Partiamo con le clip di Quaresma, questo giocatore è buono, è un buon giocatore, ma non è un fenomeno, certo costa anche il suo prezzo, si gira su mille crediti, ovvio non possono garantirvi un fenomeno, però durante la partita lo fa, quindi veniamo a parlare di questo giocatore. La prima caratteristica è sicuramente la velocità, una velocità ottima, che unita al binomio con il dribbling, ricordiamo 85 di dribbling, con 87 di dribbling puro, è veramente, diventa veramente devastante. Ha dei buoni passaggi, nulla di eccezionale, però ha dei passaggi discreti, con 81 di cross, 71 di passaggi corti e 85 di passaggi lunghi, che sono valori normali sulla carta. Ma veniamo a parlare del tiro, un tiro che si presenta a 74 sulla carta, quel 92 di effetto è veramente un valore buono, perché permette di fare i tiri molto belli. Il problema di Quaresma qual è? La Quaresma è un destro che gioca a destra, e quindi i tiri a effetto non sempre, nonostante abbia le quattro stelle piede debole, che, nulla da dire, sono ottime, e comunque, nonostante i quattro stelle piede debole, certe volte i tiri non vengono nel migliore dei modi. Quali sono i contro di Quaresma? I contro di questi giocatori sono il work rates, medio-basso, non proprio massimo per un'ala, perché non ha un ottimo posizionamento, e soprattutto la finalizzazione. Perché la finalizzazione? 66 per un'ala è poco, è molto poco. Quindi, riassumendo, Pro di Quaresma, velocità, dribbling, 5 stelle skill, tiro a effetto, soprattutto, e quattro stelle piede debole. Contro abbiamo rating e finalizzazione. Il secondo giocatore che andiamo ad analizzare è Nani. Nani, 81 sulla carta, con 84 di velocità, 86 di dribbling, 78 di tiro, 79 di passaggio, e anche lui, come il suo collega, 64 di fisico. Abbiamo quell'84 di dribbling, che è contornato da un 87 di accelerazione e 81 di velocità scatto. Poi abbiamo un 86 di dribbling, con 92 addirittura di agilità, 83 di equilibrio, 83 di controllo palla, e 87, come il suo collega, e dribbling puro. Questi due giocatori, parto dalla premessa, che sono abbastanza simili, ma vedrete che hanno qualche differenza che si fa sentire in gioco. Per quanto riguarda i tiri, abbiamo un 78 con 81 di piazzamento, 85 di potenza tiro, 84 di long shot, 75 di tiri al volo, vabbè, 74 di finalizzazione. Passaggi 79, abbiamo un 81 di cross, 80 di visione, 80 di passaggi corti, 75 di passaggi lunghi, 80 di effetto. Fisico 64, abbiamo una resistenza 72, e una forza 63. Questo giocatore ha un work rate alto-basso, e ha 4 stelle piede debole, e 5 stelle skill, come Quaresma. Partiamo con le clip di Nani, la prima caratteristica che vado ad elencare è sicuramente la finalizzazione di cui abbiamo parlato prima del sopraccettato Quaresma. Quaresma ha 66 di finalizzazione, Nani ha 74. Questo 74, unito al dribbling, che ovviamente è uguale a quello di Quaresma, praticamente, perché ha le 5 stelle skill, ha 87 di dribbling puro, veramente, la finalizzazione lo aiuta parecchio rispetto al suo collega. I passaggi sono migliori quelli di Nani, di Quaresma, assolutamente, niente di eccezionale, né in uno né in un altro, però i passaggi sono decisamente migliori in Nani. Un altro pro di Nani è il work rates. Il work rates perché ha un work rates alto-basso, perfetto per un Nani, un 4-3, e diciamo che è sempre in posizione avendo anche 81 di posizionamento, quindi ottimo valore. Quindi riassumiamo il pro di Nani, che ha work rates, velocità, tiro e dribbling. Se proprio vogliamo mettere qualcosa nei contro, ci mettiamo la forza fisica, ma tanto per trovargli una pecca, perché questo giocatore per gli skill, per gli skill, gli skillatori, costa veramente poco, costa sugli 800 crediti. E dunque, tra i due, chi scelgo? Scelgo ovviamente Nani. Sono due giocatori simili, però Nani ha il work rates che lo aiuta, la finalizzazione dalla sua che lo aiuta e ha un po' di caratteristiche superiori rispetto a Quaresma. Lasciate un mi piace, commentate, soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!